Acqua in una ciotola. Lago estrofinalo su una calamita, in questo modo si magnetizza. Adagia lago su un pezzettino di carta e mettele in acqua. Vedrai che da solo si disporrà verso il nord. Hai creato una bussola! La terra è un enorme geomagnete e noi siamo immersi nel suo campo. Lago ne è la prova. Vicino alla calamita, ovviamente, lago mi segue. Il campo è generato da metalli che sono al centro della terra. E anche il nostro cuore e il nostro corpo emette un campo magnetico, dato che nel sangue c'è del ferro. Alcuni animali, come le api, le balene e gli uccelli, hanno una bussola biologica interna che gli permette di orientarsi. Provo a fare affondare il resto della carta. E lago galleggia, anche se del metallo, grazie alla tensione superficiale dell'acqua. Che spettacolo, no! Ora sai come funziona la bussola del tuo smartphone. Hai mai usato una bussola?